Più 8, Olimpia, 5 personali per Baron, anticipo di Nick Melli che si lancia in contropiede solitario, canestro con fallo per Niccolò Melli. Fa vedere, riceve Robinson, ancora una volta, capisce tutto, Melli dietro la schiena con effetti speciali, la schiacciata di Luau Cabarò. Non trova lo spazio per andare a tirare, allora si affida a Jones, 8 secondi, espone il palleggio a Davis che con mani rapidissime gli sottrae il pallone, poi lo scarico per Melli.